L'unità di questa mostra nasce dal fatto che abbiamo voluto legare il tema dell'acqua che era già stato sviluppato nel periodo del lockdown da questi artisti con la possibilità della ripresa. Legata alla festività di Santa Maria delle Grazie, si è cercato di trovare la maniera perché potessimo trovare il modo di uscire fuori. È un invito fatto a noi stessi e fatto anche alla gente del territorio. È un evento importante perché in qualche maniera ci permette di legare fortemente il senso dell'arte con il senso della fede. Sono occasioni in cui certamente in maniera traslata si cerca di ambientare l'opera d'arte all'interno di un contenitore già di per sé artistico. Quindi è un richiamo fra passato e presente e possibilità in ogni caso di dover illustrare oggi una continuità nel segno della speranza per il futuro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.